Non può essere invocata da Mugnai la legittima difesa perché ha accettato la sfida lanciata dal proprio aggressore innescando una sorta di duello e comunque avendo reagito in maniera non proporzionata alla situazione di pericolo. E' questa sostanzialmente l'interpretazione del Gupa Claudio Lara dei fatti del gennaio 2023 quando l'artegiano Aretino uccisa a colpi di fucile il vicino di casa, Gesim Dodoli, che con una ruspa gli stava distruggendo la casa. Il giudice nel corso dell'ultima udienza aveva così deciso di rimettere gli atti nelle mani della PM Laura Tadei per riformulare l'accusa, non più eccesso colposo di legittima difesa, adesso Mugnai rischia l'accusa di omicidio volontario. Nel documento di 18 pagine il Gupa Lara ricostruisce i fatti dalle deposizioni dei familiari alla chiamata al 112, dalle indagini alle perizie e gli approfondimenti dei RIS, da qui la sua decisione. Secondo il giudice mancano dunque presupposti per ritenere la legittima difesa per mancanza di un pericolo imminente di vita e della proporzione. Ci sarebbe stata poi una sequenza di colpi esplosi quando ancora non era stato chiamato il 112, mentre il mezzo era impegnato nel danneggiamento delle auto parcheggiate nel piazzale. Per questo, sostiene il Gupa, l'imputato avrebbe potuto ricorrere ad una reazione meno pericolosa e proporzionata. Anche poi, quando la Ruspa ha attacchiato la casa, secondo Lara, non può configurarsi nessun caso di legittima difesa perché Mugnai, nonostante l'azione dell'escavatore fosse in fase di stasi, ha esploso tre ulteriori colpi nei confronti del bersaglio che non era più in condizioni di aggredire. Avrebbe anche colpito punti potenzialmente vitali, dunque un superamento oggettivo dei limiti della legittima difesa secondo il Gup, frutto di una scelta volontaria che si evince anche dalla mancanza di colpi d'avvertimento. Di tutt'altro avviso i legali di Mugnai. Vedremo di difenderlo al meglio in questa nuova fase che è una fase più complessa, sinceramente, che non mi sarei mai aspettata, però ci sta. Secondo voi non si è trattato in alcun modo di domicilio volontario? Ma scherziamo.